eccoci qua buongiorno a tutti cari amici che mi seguite allora siamo nel luogo in cui io coltivo il mio salice vedete ancora il salice non è pronto da raccogliere perché deve scendere il freddo il freddo lo sistema praticamente lo fa addormentare quindi poi prende anche il colore questo è salice rosso ok questo che coltivo io salice nero e salice rosso tutto qua questo è un bel ramo di salice nero vedete la foglia ecco qua il salice che coltivo poi ho messo a dimora altro salice vedete questo altro salice messo a dimora per avere altre piante di salice per poi raccogliere anche delle piante di salice bianco o salice giallo questa qua un'altra qualità di salice se così non lo riconoscete però si riconosce dalla foglia più larga più grande dal colore e così via ecco questo è il mio salice ancora presto per raccoglierlo quindi anche fare il video che un amico mi ha chiesto di fare un video mentre raccogliere il salice ma non è il momento prima bisogna aspettare che il freddo cali sulle piante e che possano poi essere raccolte tutto qua ok a presto e grazie che mi seguite mi raccomando mandate foto e video a presto Grazie.